Ciao a tutti, per inaugurare questo nuovo format ho scelto le fragole. Ho deciso di fare delle barrette utilizzando lo yogurt. È una ricetta molto semplice e si prepara in pochissimi minuti. Prima di consumarle, congelatele 2 massimo 3 ore, perché altrimenti risulterebbero troppo dure e troppo congelate. È un modo sicuramente alternativo per consumare lo yogurt. È una ricetta molto fresca da proporre durante l'estate. Vi lascio il procedimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.